Salve a tutti giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video, rivelate due carte Sentryon e sappiamo che Sentryon potrebbe rivelarsi poi enorme, quindi andiamo a vedere queste due carte che cosa fanno sempre in Infinite Forbidden, prima di iniziare, come sempre ragazzi mi permette di iscrivervi al nostro canale prima di sempre aggiornato, ricordo che l'iscrizione ci aiuta veramente tanto io vi ringrazio, detto ciò andiamo a vedere che... ah questa viene direttamente da Solweather e c'ho una mezza specie di falce, più o meno va bene, allora Dragon Knight, Sentryon Antri ok quindi è un drago? si, un drago tuner è il tuner che serviva, è il tuner che serviva Sentryon un altro tuner gli serviva come il pane, quindi buono, già il fatto che è un livello 4 appunto tuner ottimo, primo e terzo effetto, una volta per turno si viene evocare Normalo Special e abbiamo una carta emblema e una carta Sentryon, no più carta emblema, no più carta Sentryon del Cifitero possiamo pescare una carta e non possiamo evocare specialmente Sentryon Arti per il resto di questo turno ok a parte l'emblema pure quella sotto è emblema quindi ok, c'è questo è emblema of thought che è una carta veramente molto buona quindi non è per niente male, evochi e peschi se questa carta saper essere utilizzata come materiale sincrono possiamo trattarla anche come non tuner cacchio è forte durante la main phase viene consigliata come carta trappola la evochiamo specialmente tra l'altro ti fa pescare potenzialmente anche nel turno dell'oppo che ti permette di prendere magari quell'HT che ti serve per andare a fare interruzione ok, il mostro è forte, è veramente molto forte è il tuner si evoca ovviamente come sappiamo ci permette di pescare una carta puoi utilizzarla come non tuner anche quindi veramente veramente molto molto buona poi abbiamo emblema atonement nome di questa carta molto opportuna bandiamo un mostro face up Sentryon nella zona magic trappola e targettiamo una carta dell'oppo e la bandiamo buono perché essenzialmente c'è il sincrono che te li fa riposizionare la zona magic trappola quindi anche se te lo vai a bandire il sincrono è il nuovo che esce da Legacy of Destruction quindi se vai a fare interruzione e poi ti rimetti il mostro e via, te lo rievochi se questa carta è assettata e viene distrutta oppure bandita dall'effetto di una carta dell'avversario, un effetto attivato possiamo piazzare due Sentryon con nome differenti dalla mano d'ecco, cimitero e oppure banditi scoperti nella zona magic trappola come carta trappola continua sono due carte molto interessanti sono due carte molto interessanti anche perché comunque se c'è la roba settata l'oppo te la spacca te la puoi sempre spaccare perché sai spacchini di tutto le carte che bandiscono effettivamente ci stanno puoi anche sfruttare il secondo effetto il primo comunque è buono perché puoi riposizionarti le carte Whitewoods molto probabilmente ho visto che c'è gente che già sta pensando a Whitewoods Centurion potrebbe essere enorme abbiamo anche questo Atri che comunque per l'archetipo è veramente buono è veramente buono perché si al limite ti fa diciamo non è sbroccatissimo anche se secondo me è molto forte va benissimo così, anzi va bene, va bene, va bene anzi che non gli hanno messo il sincro gli hanno messo il fatto che puoi fare sincro con effetto grave fortunatamente però sono due supporti molto buoni quindi Centurion secondo me sarà molto forte e io ho paura di Whitewoods quando uscirà perché Whitewoods è un archetipo che potrebbe andare in combinazione con tanti mazzi e abbiamo paura comunque due supporti che approviamo detto questo ragazzi fatemi sapere voi cosa ne pensate ovviamente noi come sempre ci vediamo in un prossimo video e un saluto a tutti